Ciao Smarties, sono Marco Ripa e scopriremo insieme se hai una buona vista, un buon colpo d'occhio. Questo è il test che misura le tue abilità di suo percettive, sembra una parola difficile, ma dovrai soltanto trovare il maggior numero possibile di differenze prima che scada il tempo. Alla fine del test, somma tutti i punti che hai ottenuto in ogni prova e scopri il tuo risultato. Io ho finito, se tu sei pronto o sei pronta, buon divertimento! Tre, due, uno, si comincia! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.